Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi parliamo di un argomento che pensavo fosse passato di moda, invece no, invece no. Siamo ancora qui nel 2024 a discutere su i videogiochi, sono cattivi, i videogiochi violenti, sono pericolosi, bisogna tutelare i bambini, prego agevolare clip di Simpson. Oh, perché? Perché nessuno pensa ai bambini? E cose di questo tipo. Sto parlando ovviamente della polemica che c'è stata in questo weekend tra il MOIGE, Movimento dei Genitori Italiani, Associazione dei Genitori, eccetera, eccetera, che ha sempre qualcosa da dire su tante cose, infatti la loro attività principale è quella di sensibilizzare appunto verso i figli, la protezione, il monitoraggio di palinsesti televisivi, raccolta di segnalazioni, sto leggendo letteralmente la pagina del MOIGE e campagne inerenti nelle scuole elementari e medie, rivolte ai minori per sicurezza, uso dei media, eccetera, eccetera. Attività che apparentemente potrebbero sembrare assolutamente virtuose, ma spesso e volentieri in realtà sono un pochino politicizzate, diciamo, indirizzate da un certo orientamento, anche se sulla carta, diciamo, costituzionale, tra virgolette, questa associazione dovrebbe essere apolitica e a religiosa. E in particolare sulla questione videogiochi o videogiochi violenti non è certamente la prima volta che se ne sente parlare. In questo caso specifico si parla di GTA 6, gioco che tra parentesi ancora non è uscito, uscirà forse l'anno prossimo, ma a quanto pare ancora preventivamente è un problema, perché appunto nessuno pensa ai bambini e è un problema quando uscirà un gioco così violento e appunto sarà pericoloso, ecco questa è la loro idea. Ora, che dire, sento questi discorsi da quando io ero minorenne, e nel passato di tempo, quando io ero minorenne effettivamente c'erano già dei GTA, ma erano i GTA con la visuale dall'alto in pixel art praticamente. Ma c'erano altri giochi molto, diciamo, contestati, come per esempio Immortal Kombat o, per chi se lo ricorda, abbastanza famoso, Carmageddon, no? Quel bel gioco in cui ci si scontrava contro altri, diciamo, concorrenti, con le macchine e per lo più si tirano sotto i pedoni. Molto divertente. E voi direte, certamente questi giochi non sono proprio indicati per dei minorenni, e io vi rispondo, sono d'accordo, effettivamente sono d'accordo. Il punto qual è? Il punto è che in realtà c'è già di fatto, in questo momento, e anzi c'è sempre stata, almeno sicuramente negli ultimi vent'anni, una classificazione, diciamo così, dei videogiochi, così com'è dei film, quindi una categorizzazione, proprio con gli adesivi, per far capire appunto ai genitori, che magari comprano, dato che di solito non è che c'è questa disponibilità economica incredibile ed è un minore rispetto a potersi compare dei videogiochi, di che tipo di videogioco si stia parlando? Quindi effettivamente c'è quella che, insomma, penso tutti conosciate, il PEGI, no? Il PEGI. PEGI 6, PEGI 12, PEGI 18, eccetera. È una classificazione dei contenuti all'interno dei videogiochi che appunto fa capire se quel gioco è adatto o non adatto a un minore o comunque a una certa età, perché magari dentro c'è del sesso, della violenza, dell'alcol, del fumo, insomma, qualsiasi tipo di cosa particolarmente aggressiva che potrebbe, insomma, impressionare magari un minore. Quindi in realtà già questa questione sarebbe già risolta così, no? C'è già una classificazione, se un genitore compra un videogioco a un minore dovrebbe essere lui a premunirsi di capire cosa sta comprando e se è adatto oppure no. Però in realtà io vorrei spezzare una lancia, incredibilmente, su questa polemica, ennesima polemica, perché in effetti però in Italia non c'è una legge che dia qualche sanzione a chi vende dei giochi appunto sconsigliati ai minori. Mentre ci sono delle sanzioni anche importanti se un negoziante vende alcol o tabacco, fumo in tabaccheria a un minore, perché è una cosa che non si può fare non solo a livello morale, non si può fare per legge, ecco lì in quel caso se vengono beccati i rivenditori ci sono tre sanzioni importanti e mi pare di non sbagliare che ci siano anche per i prodotti audiovisivi, cioè se uno va a comprare un film vietato ai minori ed è minore e il negoziante glielo vende è passibile di una multa, credo, mi sembra di sì. Invece per i videogiochi, sono sicuro perché me lo sono andato a cercare, no, non c'è nessuna multa, quindi letteralmente è una questione morale in Italia, cioè un rivenditore può tranquillamente vendere un videogioco diciamo 18+, come per esempio GTA anche a un minorenne. E da questo punto di vista effettivamente io sarei anche d'accordo di mettere una legge, perché secondo me è sensato effettivamente preservare magari un minore rispetto a giochi particolarmente violenti dove il focus principale sono azioni decisamente violente, tipo rubare, uccidere, investire pedoni e cose di questo tipo. Anche se io farei un distingo perché secondo me fino ad una certa età ha senso questa sorta di vieto, invece sopra una certa età non tanto, cioè secondo me in realtà non dovrebbe esserci giochi vietati diciamo a 18+, ma più che altro 14+, ok? Secondo me l'età sensibile sotto i 14 anni. Sopra i 14 anni io credo che si è abbastanza adulti e si spera che anche i genitori insomma abbiano contribuito a far comprendere insomma il mondo vero ai propri figli ecco. Infatti poi la questione stringendo è sempre quella, cioè queste associazioni cercano di di fatto un po' scaricare la colpa dai genitori stessi, colpa tra virgolette, rispetto all'educazione dei propri figli o dei pericoli dell'ambiente, del mondo esterno. E cercano di scaricare questa colpa, cioè il fatto che i genitori, è proprio dovere dei genitori educare i figli e anche preservare i figli finché sono minorenni, applicando diciamo così delle pressioni sociali e mediatiche che alla fine della fiera vanno a finire sempre in censura, banalmente. Ovviamente io sono contro ogni forma di censura perché credo insomma nella potenza dell'intelletto umano e del fatto che possa discernere tra finzione e cose reali e insomma capire anche quello che è bene e quello che è male. E in realtà le azioni che spesso attuano questa associazione di genitori del Mojje spesso e volentieri più che sensibilizzazione sono proprio di censura anche e non solo sui videogiochi ma per esempio sui palinsesti televisivi soprattutto. E se ci deve essere una censura, deve essere all'interno della famiglia, una sorta di parental control, deve essere la famiglia, i genitori a magari dire questo lo puoi vedere, questo non lo puoi vedere o decidere come vogliono loro rispetto alla gestione della propria famiglia, dei propri figli. Non deve essere certamente un'associazione esterna che decide per tutti cosa è bene vedere, cosa non è bene vedere proprio a monte. Quindi andando a influenzare proprio un palinsesto televisivo, anche se parlare di palinsesto in televisivo ormai è sempre più anacronistico, o rispetto ad altri temi come possono essere film violenti o in questo caso videogiochi violenti. Insomma responsabilità a mio avviso è sempre e unicamente sui dei genitori a livello di poi educazione e di controllo dei figli. Che fino a una certa età sicuramente deve essere molto stretta, dopo una certa età anche da minore, diciamo dopo i 14-15 anni, i genitori secondo me, i genitori non possono fare altro che sperare di aver diciamo educato abbastanza bene i propri figli e poi va come va perché a un certo punto i figli crescono e tutto può succedere in realtà. Ma di certo non deve essere la società tutta a essere censurata per paura che qualcosa di male può succedere perché, spoiler alert, qualcosa di male comunque potrebbe succedere. Questo fa il pari anche con tutte quelle discussioni altrettanto inutili, stupide e anche falsificate poi, del fatto che per esempio giochi violenti o film violenti creino, diciamo così, atteggiamenti violenti rispetto a chi ne usufruisce. Questa cosa è stata ampiamente smentita anche con degli studi scientifici praticamente, psicologici, cose di questo tipo, perché alla fine si riduce sempre tutto a quello, se una singola persona non riesce a discernere tra realtà e finzione perché ha qualche problema suo magari, mentale o altro, non è un problema del contenuto di per sé, il problema comunque è insito nella singolo individuo. Quindi se quell'individuo è violento e soffruisce di contenuti violenti, questi potrebbero incitare la sua violenza? Probabilmente sì, ma perché quel soggetto probabilmente è violento di suo. Perché è nato così? Perché è cresciuto in un ambiente violento? Per altri mille motivi? Non lo so. Ma state sicuri che su un soggetto, diciamo così, standard, senza particolari problematiche, giocare a Carmageddon quando aveva 15 anni, o giocare a GTA quando aveva 16 anni, o giocare a Mortal Kombat quando ne aveva 12, non ha mai portato a nessun crimine, nessun atto di violenza o altre cose di questo tipo. Tra parentesi, io credo di aver mai perso un punto della patente in più di 20 anni. E vi assicuro che mi piaceva un sacco buttare sotto le persone su Carmageddon. Quindi insomma, mi sono dilungato sicuramente troppo, però per farvi capire insomma anche dal mio punto di vista, anche se potevate magari immaginarlo su questa questione. Alla fine della fiera queste associazioni, questa associazione in particolare, vuole semplicemente il controllo, il controllo della società. E vuole scaricare le colpe di chi insomma dovrebbe stare attento proprio ai propri figli, magari dando colpe a destra e a sinistra per poi essere magari con la coscienza più tranquilla. Insomma, questi sono i miei due centesimi. Se volete scrivermi qualcosa sotto nei commenti, sono felice di leggerlo. Per il resto ragazzi noi ci becchiamo prossimamente per altri video sui videogiochi, anche quelli violenti effettivamente. Grazie per la visione, statemi sempre bene e alla prossima. Ciao ciao.